Ciao da Emanuele Zanella, parliamo di mentalità vincente e dialogo interno, le parole che noi usiamo con noi stessi. Bene, allora, se io faccio un po' di silenzio automaticamente, dentro la tua bocca, quindi la lingua inizia a creare delle micro vibrazioni per attivare il dialogo interno. Bene, facciamo 5 secondi, anzi 7-8 secondi di silenzio. Ok, hai portato l'attenzione sulla tua lingua, sul tuo dialogo interno, su quella vocina interiore che parla continuamente. Beh, questa vocina è formata da due, dal doppio pensiero, dal pensiero buono, quello che ti indica, dai che ce la puoi fare, sei forte, e quello cattivo che dice, non ce la fai, non vale niente. Ho provato tante volte questa frustrazione perché davo più retta a questa voce cattiva. Io lottavo con la voce buona, volevo farcela, ma poi la voce cattiva era più forte e mi impediva di fare certe azioni, mi bloccava, mi rendeva delle incapacità perché davo retta a quella, perché era più forte. E come si fa a imparare a bloccare questa voce? Beh, questa voce intanto la applichiamo noi, la attiviamo noi come? Con queste micro vibrazioni che attiviamo con la lingua. Ricordati che la lingua crea stress e succhia energia. E un modo semplice per bloccare questa risucchio di energia in dialogo interno, che è il classico logorio mentale che ripete sempre, sempre, sempre le stesse cose, un piccolo trucco è fare questo, bloccare la lingua. Così, metterla nei denti, insomma, l'importante è bloccarle senza morderla, ovviamente, ma bloccarla in modo da tenere la lingua rilassata, oppure fare questo, quindi staccare la lingua dal palato. Ti accorgerai che quando sei sotto stress, se porti l'attenzione, avrai la lingua che spinge e le mandibole contratte, perché se hai messo così, spingi e questo logorio mentale, questo dialogo interno, continua, continua, continua. Cosa vuol dire logorio? Io faccio sempre il riferimento alla ruota del criceto. Ti è mai successo di andare a letto e svegliarti al mattino più stanco di quando sei andato a letto la sera? Perché? Perché il cervello ha continuato a lavorare. Ti svegli al mattino col pensiero fisso e non riesci a controllarlo. È come la ruota del criceto. Immagina che il criceto sale dentro la ruota, comincia a correre. Quindi cosa succede? La ruota inizia a girare, ma se il criceto smette di correre, la ruota si ferma, perché lui va fuori dalla ruota, la ruota si ferma. Tutto normale. Cosa succede invece noi quando siamo in logorio mentale? Che anche se il criceto esce dalla ruota, la ruota continua a girare. Quindi consuma, consuma energie, consuma senza produrre nulla. Perché? Una mentalità perdente è quella che spreca energie, che lotta senza vincere mai. Una mentalità vincente è quella che ha una struttura che segue un protocollo preciso per andare a vincere energie, per consumare una dose minima di energie per ottenere il massimo risultato. Se per un'azione ho bisogno di energie pari a 20, lo devo consumare 20 e non 80. Quindi cosa succede? Se io vado a letto, devo imparare a riposare, devo imparare a staccare questo logorio mentale, fermare la ruota, bloccare il cervello, dormo, dormire come bambini e svegliarsi al mattino pronti per essere presenti, forti, sicuri per intraprendere e superare le difficoltà della giornata e della vita in modo solare, forte e sicuro, adottando una strategia vincente. Bene, se vuoi sapere anche tu, per imparare al meglio a usare la tua mente e le migliori strategie sulla mentalità vincente e filosofia analogica per andare a estrapolare l'energia dal tuo inconscio e negoziare con lui, bene, clicca il link sulla descrizione qui sotto per accedere al Master sulla mentalità vincente. Ciao!